Noi abbiamo accolto con grande orgoglio ed entusiasmo la designazione di Vibo Valencia, capitale d'Italia, del libro. Quello che preme sottolineare sono le parole di Franceschini con cui ha dato l'incipit a questa proclamazione. Franceschini infatti ha detto che sono occasioni forti, importanti per un rilancio del territorio e noi non possiamo non approfittare della presenza qui stasera della Giunta Nazionale insieme con il suo Presidente ma anche con altri rappresentanti delle proloco sul territorio per rilanciare ancora più fortemente questo messaggio. Le nostre città hanno bisogno di essere narrate in positivo e abbiamo bisogno di esportare buoni modelli e buone prassi. Siamo certi che con la collaborazione sempre maggiore delle proloco noi potremo lavorare in assoluta sinergia nell'interesse e per il bene dei nostri territori.